Vi ho fatto una sorpresa speciale per voi ragazzi, visto che io sono Gabri Costa. Se vi piace questo video di Metal Gear Solid 4, iscrivetevi subito nel mio canale immediatamente, poi lasciate i vostri commenti e un mi piace. Basta le chiacchiere e pensiamo al gioco. Allora, Old Snake e LMAPA3 sono a Shadow of Moses. Se non avete notato, siamo ritornati in questo vecchio laboratorio dove era prigioniero Otacon e quando era stato attaccato da Gray Fox, detto Frank Jager. Però gli abbiamo salvato la vita. Però questo è il secondo piano interrato del deposito delle testate nucleari. Bene, Snake mette l'MAPA3 là sopra. No dai, che ti succede Snake? Tutto bene? Bravo, prenditi la siringa e iniettasela. Te la devi iniettare. Bravissimo, così si fa. La password ve la ricordate ragazzi? La password la dovete memorizzare, dovete impararla senza sbagliare. Visto che l'MAPA3 ha messo il filo nel computer, potete inserire la password per Otacon, ragazzi? Io vi saluto ma dovete ricordarvi di farlo, senza sbagliare. E' un numero a cinque cifre. Vi saluto ma iscrivetevi lo stesso e poi memorizzatevi la password che è sempre 48273. Non potete più sbagliare. Arrivederci. Arrivederci.